Come hanno fatto a dividere tutto? Io ho iniziato il mio cammino 15 anni fa con la Bibbia, con la Bibbia perché quando ero in Romania stavo con un ragazzo da 8 anni e questo ragazzo mi ha fatto le corna diciamo con una suora. Con una suora di clausura che è innamorata pazza di lui mi faceva i bigliettini dove mi dava le regole che io non dovevo stare con lui perché non ero sposata, mi dovevo sposare. Io no ma lei sì, hai capito? Cioè è una cosa che è la regola della chiesa, tu no ma loro sì, è quello. Allora non sapevo, io sono stata un'atea perché il mio papà era un membro del partito comunista, ci aveva, siamo stati cresciuti nel mondo alto diciamo della società perché lui aveva due università, era un grande giornalista, era una persona che gradiva molto questo sistema ed era contro la chiesa. Mio papà non è mai entrato nella chiesa, li odiava, li bestemmiava, diceva che sono la piaga di questa società. Sono cresciuta così perché mio papà ha odiato queste bugie che loro ti dicono per mantenerti in uno stato di sceimmezza fantastica, di credere che viene qualcuno ad aiutarti, di farti le cose. Cioè tu sei malato vai, sta il dottore sette ore con te, ti fa l'operazione e poi tu ringrazia Dio. Cavolo ma se questo Dio era, tu non eri, non arrivavi ad avere l'operazione, non lo facevi, ma svegliatevi, sono tutte le bugie, vi stanno ingannando. E su questa cosa io di più ho odiato la chiesa perché quando io faccio un voto e dico io questa cosa non la faccio, io non la faccio perché non devo stare a mentire te. È la mia coscienza che non mi lascia a fare un'altra cosa rispetto a quello che ti ho detto che devo fare. Anche se poi mi rendo conto che magari non era proprio nei miei, non mi stava bene a me, ma di più a te. Ma va bene, io ho fatto la promessa, mantengo quella promessa a tutti i costi perché se no tradisco me. E allora ho voluto capire che cavolo scrive questo libro. Questo libro così, di quale tutti parlano, che tutti hanno nella biblioteca ma che nessuno legge, che c'è la polvere sopra così, perché tutti credono in quello che si dice, in quello che si dice. E così ti hanno fatto ingannare, così ti hanno detto che tu sei quello che hai scelto, la tua religione. Sì col cavolo, hai scelto la tua religione? Mai. Perché se sono tre famiglie vicine, una dei musulmani, una dei cristiani, una dei atei, ogni bambino che nascerà in tutte queste famiglie sarà diverso. Uno sarà cristiano, uno musulmano, uno ateo. Perché? È quello che hai imparato. Se tu mi dici che io devo scegliere, mi devi aspettare finché arrivo a un'età, quando capisco le cose mi dici, guarda che sono questi correnti dogmatici, che sono il cristianesimo, l'ebreismo, il giudaismo, il buddismo, quello che c'è. Tu quale lo vuoi? Voglio uno, voglio due o non voglio nessuno? Allora sì che mi faccio io la scelta. Non arrivo nel mondo e tu mi dici che c'è uno che sta sopra, che mi guarda, guarda tutti e poi se non fai bene ti picchia, ti mette sotto sulle fiamme. Ma che cavolo stiamo dicendo? Un bambino piccolo viene al mondo già con i peccati. Come mai? Che peccati? Non ha fatto niente, poverino, ha già i peccati. Ma diamo i numeri, siamo nel ventunesimo secolo. Ve lo dico io che cosa è il peccato. Io ve lo dico perché poi ho iniziato a leggere, leggere, leggere questa Bibbia finché sono arrivata a studiare. E allora ve lo dico io, sono stati... C'è la mente ingegniosa per avere schiavi. Hanno inventato la legge e la Bibbia lo dice in un modo fantastico. Prima era l'Abramo che prima non era sotto la legge, non aveva il peccato. Ma da quando è sotto la legge, il peccato è entrato nel mondo. Bene, cari preti, ci avete ingannati. Perché alla fin fine è la legge che fa il peccato. E avete ragione. Avete ragione. La legge, questa parola, è una parola laica. La parola della Chiesa è il peccato. La legge e il peccato sono la stessa cosa. Perché per quanto tempo c'è la legge che mi dice che io sono una puttana perché ho tradito il mio marito, io sono una puttana. Ma se questa legge non è, sarebbe che io sono una donna libera, anche come lui, ci amiamo e davanti a tutti non mentiamo nessuno. È inutile che io sono la tua moglie e mi fai le corne e poi vieni e mi dici no amore mio, io non ti ho fatto niente, io ti amo. No, fammi vedere davanti a me che ami un'altra. E allora mi va bene, mi sta bene. È quello. La legge e il peccato sono due cose con quale sono riusciti a metterti sotto, a farti stare in ginocchio perché tu hai un peccato, perché loro ti hanno detto che hai un peccato. No, ma senza la legge non si può vivere. Certo, senza la legge non può vivere nessuno, nessuno che non ha una coscienza e una mente che giudica. Nessuno potrà vivere senza una legge, sarà perso. Lui ha una coscienza di gruppo. Dice il gruppo, beh, lo dirà anche lui, perché se no non si può. No, invece quello che ha la sua coscienza non lo fa, non ha bisogno di questa cosa. Io non ho bisogno della legge che mi dice che non devo uccidere, che non devo rubare, che non devo mentire, che non devo mettere sotto i miei piedi un altro mio essere. perché così dice la legge perché se no vado in galera. me ne sbatto. Io non faccio queste cose perché non li posso fare. C'è la mia coscienza che ogni giorno mi dirà che cazzo hai fatto. E allora io andrò a dimascarmi da sola. Non è vero ed è per quello che loro ti tengono così. Perché per quanto tempo tu non hai la coscienza e non hai la mente aperta non potrai stare senza queste merde. Quante leggi sono di più così le tue libertà sono di meno. sempre di meno arrivi a non avere niente stare dritto e dire sì o no. E il libero arbitrio ma quale libero arbitrio? Il libero arbitrio dice che se io voglio andare a destra, a sinistra, su e giù vado dove cavolo voglio. No! Qua c'è la legge che o dici sì sei con noi con il grege con la maggioranza dici di no sei fuori. Giusto? Molto, molto intelligente fatto. Molto intelligente. Non devi amare. Come? Tu che ti stai mi stai sparando che questo Dio è amorevole è tutto amore tutto fatto d'amore mi dici che non devo amare ma è il più bel sentimento del mondo non lo posso fare come? Ma che state dicendo? Ma poi perché non c'è amore ragazzi questo che voi pensate no ma noi dobbiamo cambiare c'è amore poi la stessa persona che ha detto sì dobbiamo essere dobbiamo amarci dobbiamo stare dobbiamo fare la stessa persona mette poi un altro un altro video un altro articolo dove eh sì ma i gay guarda i gay che cosa hanno fatto cazzo ma no l'amore l'amore non è solo per quello che ti piace l'amore è per tutti perché tu quello non lo ami e lo consideri diverso di te per la colpa di questa legge che ti dice che lui è così ma cavolo siamo migliaia e tutti siamo unici non possiamo essere uno come l'altro cioè se non era questa legge che ti diceva che quello è diverso da te non c'era nessun problema dove era il peccato dove era il fuorilegge da nessuna parte c'era una società colorata dove ognuno si guidava dopo la sua coscienza perché è inutile che hai una mente chiusa la mente chiusa non ti dà la coscienza se non hai la coscienza non puoi andare avanti stai con il grege e fai beh quando dici il grege failo anche tu e vai sempre lì non ho mai capito perché tutta l'umanità è stata paragonata ad un grege di pecore io non ho niente con gli animali io non li mangio sono contro tutto le persone mi conoscono così però la pecora mi sembra la più la più scema di tutti di tutti gli animali perché la pecora ha un un capo e se quel capo è un po' pazzo e va nel precipizio anche le pecore vengono e si buttano nel precipizio per questo motivo l'umanità è stata paragonata ad un grege di pecore perché io le pecore le ho viste da piccole la mia zia materna che il mio papà aveva dodici fratelli dodici e la mia nonna li ha mandati su tutti e anche bene tutti stanno bene benestanti adesso non si può e volevo dire la mia zia aveva le pecore e io sono da piccola abituata con le pecore e ho visto che le pecore non pensano loro non pensano loro seguono il capo tutto quello che fa capo vanno anche loro e allora per questa cosa che a me è rimasta nella mente da piccola che la pecora è la più scema possibile non ha la mente non ce l'ha cazzi ce l'ha ce l'ha però è chiusa non pensa con lei è quello l'altro che pensa per lei e allora l'umanità è giusto che è un grege perché ed è stata paragonata così perché è così che si arriva tu hai una trauma e devi andare dal psicologo ma che cazzo stai dicendo ma se io ho una trauma significa che divento più forte ho passato quella cosa lì è che sei tu a dirmi a me che cosa devo fare no cavolo io mi alzo mi alzo aspetto che le le mie piaghe guariscono e vado avanti lo stesso non ho bisogno di pagare un altro un altro venduto che mi prende il mio lavoro per dirmi quello che devo fare io no sono depressa perché sei depressa perché perché quello non ha lavoro sei depressa perché non hai soldi per pagarti la casa ma va bene non paghiamo nessuno non paghiamo nessuno vediamo cosa ci fanno prendono le case va bene state voi nelle case andiamo nella montagna sono tante grotte facciamo lì le nostre case che problema c'è c'è la terra anche lì me la posso lavorare tanto avete cambiato tutti tutti i semi tutte le cose niente come era niente e allora io posso trovarmi anche da sola a stare da sola se voglio cioè con chi parlo con nessuno con quello con quale io voglio aprire la sua mente e lui va contro di me e mi anche offende io non voglio farti metterti nella tua testa quello che giudico io io te lo dico come giudico e basta non voglio che qualcuno mi segue io non sono un capobranco non lo voglio essere non me ne frego io ognuno fa quello che vuole però è un mio dovere di dirvi queste cose è Grazie.